Maxi Garden i 25 anni di storia insieme a me Marcello Mengoni e un altro grande protagonista del barbecue insieme al nostro speciale che abbiamo dedicato in tutti questi giorni proprio per Maxi Garden per raccontarci un'altra ricetta cari amici seguiteci perché queste ricette sono interessanti facili, veloci e ovviamente anche molto gustose che cosa significa? significa che con il barbecue si può veramente cucinare tutto Maxi Garden potrà darti le dritte giuste Marcello ben ritrovato giusto Antonella dicevi delle ricette gustose al barbecue e tutto quanto ma addirittura veloci non è che servano cotture lunghissime per alimenti tipo pesce e verdure meno stanno sul fuoco più assaporiamo la sostanza dell'ingrediente anche perché insomma hanno delle proprietà interessanti e la troppa cottura potrebbe in qualche modo togliere tutte queste proprietà allora che cosa ci racconti oggi Marcello? allora oggi propongo questo filetto di orata avvolto nelle foglie di limone per dare più sapore a questo pesce splendido che abbiamo lo farciremo all'interno con della marinatura qui di olio, sale, vino e pepe e con l'aggiunta della carotina e di timo limonato perfetto, timo limonato che ovviamente troviamo anche qui a Maxi Garden quindi per tutto quello di cui avete bisogno il vostro negozio di fiducia è proprio qui dove noi stiamo ovviamente degustando queste cosine buone perché dovreste vederci fuori dalle telecamere quello che combiniamo Marcello non si dice i profumi allora vai con il procedimento perché abbiamo voglia di imparare qualcosa di nuovo ma soprattutto di alternativo con il barbecue questo filetto di orata che è già stato sfilettato andiamo a irrorarlo con questa marinatura di olio, sale, pepe e vino benissimo manteniamo la pelle dalla parte posteriore così può aiutarci anche nella cottura sì sì, è stata tolta le squame però la pelle l'abbiamo lasciata proprio per tenerla, proteggere bene allora, in aggiunta mettiamo queste carotine cosa sta succedendo? il limone come ingrediente principale ma addirittura la foglia che oltre a dare sapore al pesce in questo caso ma è anche una bella guarnizione che andremo a presentare a tavola con una certa, diciamo, eleganza è vero, molto molto elegante vedrete adesso quello che succederà allora, ti guardiamo lavorare cerco di non disturbarti più allora, in questo caso chiudiamo l'involtino con dello spago beh, chiaramente si fa anche nei classici arrosti di carne in questo caso andiamo a chiudere l'involtino e poi procediamo alla cottura per il barbecue quale barbecue hai scelto fra i tanti di Maxi Garden? dunque, userò un barbecue a gas e come tecnica avremo una cottura in diretta allora, credo che la parte più complicata di questa ricetta sia proprio il chiudere con una certa maestria questo involtino, Marcello cercare di raccogliere i succhi di non farli perdere in modo particolare e dare questa fragranza di limone che rimarrà appunto solorata siamo pronti ad impiattare il nostro pesce allora Marcello, tocca a te perfetto, inforniamo il pesciolino allora, andremo a fare questa cottura in diretta perciò al centro il fuoco è spento abbiamo i due laterali diciamo al massimo piastra ben infuocata e andiamo a depositare al centro il nostro pesciolino quant'è il tempo di cottura? il tempo di cottura vanno dai 8 ai 10 minuti e allora noi aspettiamo che lui si cuocia perché insomma è buonissimo chiudiamo pure il nostro barbecue io vado da Paolo a farci raccontare questa festa bellissima del 21 giugno andiamo insieme e raggiungo Paolo Grottini ovviamente capo insieme a Francesco il fratello di Maxi Garden proprio per i dettagli di questa grande festa che si terrà il 21 giugno qui a Maxi Garden vi ricordo uscita autostradale a 14 ancora una sud è facilissima poi è così grande che non si può sbagliare Paolo ti vedo però vicino a un altro barbecue molto interessante ormai in tante puntate stiamo scoprendo delle grandi e piccole caratteristiche di questi barbecue la festa tra l'altro si baserà sul barbecue in generale ma questo invece cosa hai da raccontarci? allora questo che abbiamo davanti è un barbecue a carbone perché abbiamo il barbecue abbiamo a gas a carbone e anche elettrici qui adesso abbiamo un bellissimo barbecue a carbone il barbecue a carbone di questa marca Weber che trattiamo noi hanno la particolarità di permettere tanti tipi di cotture dalle classiche cotture fino alle cotture tipo forno e anche sono molto pratici nell'accensione e nella pulizia una cosa che magari è sempre ben richiesta ben accettata sono facili da pulire non sporcano non cade cenere a terra questo ve lo possiamo tranquillamente far vedere e lo potrete vedere toccare con mano questo giorno della festa del 21 giugno sarà un grande sabato quindi non perdete questa festa portate i vostri bimbi perché ci sarà uno spettacolo unico nel suo genere qual è Paolo? sì a metà pomeriggio faremo uno spettacolo show del boscaiolo quindi boscaiolo un spettacolo con la motosega con dei ragazzi bravissimi con questa motosega faranno un intrattenimento molto simpatico ma lavoreranno proprio come sculture praticamente Paolo ti lascio perché corro di nuovo a guardare la nostra ricetta grazie grazie a voi un colpo d'occhio e il nostro Marcello ha già creato il suo piatto con tutte le decorazioni del caso e allora mentre io chiacchieravo con Paolo tutto questo sei riuscito a fare sei un portento ma è un divertimento tirare fuori fantasia qualità del prodotto un insieme un cocktail così è solo che è una soddisfazione lavorare per Maxi Garden beh sono d'accordo tra l'altro la soddisfazione è la nostra che proveremo presto questo piatto noi invece vi invitiamo a Maxi Garden quindi venite a trovarci uscita autostradale a 14 Ancona Sud grazie Marcello buon appetito grazie a tutti